Non nuove terre ma nuovi occhi e questo è il tema molto profondo dai contenuti davvero importanti del terzo meeting del Mediterraneo. Questo 2016 si aprirà dunque con questi argomenti così importanti. Sì, sono argomenti che noi crediamo essere molto importanti per l'intera cittadinanza, anche perché noi vogliamo mantenerci in linea con i diversi momenti che abbiamo fatto del meeting dello scorso anno. Siamo infatti arrivati alla terza edizione. L'anno scorso abbiamo parlato delle frontiere dell'industria, dell'impresa per il momento storico particolare. Quest'anno vogliamo parlare delle nuove frontiere in tutti i campi, perché viviamo un momento davvero particolare. Quindi parleremo delle nuove frontiere dell'economia, dell'industria ma anche della ricerca e dell'immigrazione attraverso l'intervento in tutto il corso della giornata di relatori importanti, quali Vincenzo Berretta che è un manager di Luxottica, poi avremo il professore Giacquinta dell'Università di Catania che è stato candidato al premio Nobel in segna fisica, poi avremo la D'Agostino che è la direttrice dell'ITASTRA, la scuola d'italiano per stranieri dell'Università di Palermo e quindi avremo questi momenti durante il corso della giornata, due momenti principali, la mattina e il pomeriggio, che si terranno al cineteatro antidoto e poi diversi mini workshop, chiamiamoli così, laboratori in cui gli altri relatori parleranno di queste frontiere in un percorso che noi immaginiamo comprendere il Palatenda, il Palacademy, sempre a Macchitella, e la pista ciclabile che fungerà da collegamento tra questi spazi, offrendo anche la possibilità di avere una mini mappa tematica. Che cosa è per voi il meeting e soprattutto qual è la vostra mission e a chi è rivolto? Il meeting vuole essere un momento di incontro tra persone, nella parola stessa inglese, quindi vogliamo far sì che ogni anno si prenda un tema e lo si sviscere nelle sue varie parti per chiarire una discussione, un fermento culturale che possa far bene al territorio cittadino in primo luogo, ma perché no anche a un territorio regionale, allargandolo fino a farlo diventare veramente un meeting del Mediterraneo, infatti questa parola è un auspicio che vogliamo, vogliamo far sì che Gela possa diventare un punto di convergenza di culture, di opinioni e un punto di convergenza anche di popoli. È rivolto a tutti, il nostro target, comunque i destinatari dell'invito al meeting vanno dai giovanissimi fino agli anziani. Ricordiamo invece il luogo, il giorno e gli orari. Il meeting del Mediterraneo sarà fatto quest'anno il 31 gennaio, l'ultima domenica di gennaio, al Teatro Antidoto a Macchitella. Per chi volesse si informi nella pagina Facebook del meeting, Meeting del Mediterraneo, in cui ci sarà magari la possibilità di poter pranzare insieme con un piccolo ristoro, potesse diventare anche un momento di conoscenze, di incontro anche al di fuori di quelli che sono i convegni e le relazioni principali.